Andrea guardava fuori dal finestrino dell'auto, il cuore pesante per la perdita della madre e il futuro incerto che lo attendeva. La morte improvviso di lei lo aveva lasciato solo al mondo, senza altra scelta se non quella di trasferirsi a casa del padre, un uomo che conosceva a malapena, nonostante fosse il suo genitore biologico. La madre lo amava e lo aveva sempre tenuto abbastanza lontano dal padre, però dopo la morte gli rimaneva appunto solo il padre, quindi Andrea doveva per forza andare da lui ed abitare, essendo ancora minorenne. Padre di Andrea era un uomo d'affari di successo, con una fortuna valutata in milioni. La sua famiglia era composta dalla seconda moglie, una donna altezzosa di nome Claudia, e dai loro cinque figli, che avevano ereditato l'atteggiamento superiore della madre. Andrea sapeva che il suo arrivo non sarebbe stato accolto calorosamente. Arrivato alla maestosa villa, Andrea fu accolto con freddezza da Claudia, che lo scrutò dall'alto in basso, con uno sguardo che nascondeva a malapena il disprezzo. Così tu sei Andrea, disse lei con un sorriso che non toccava gli occhi. Il tuo padre, tuo padre, ti aspetta nel suo studio. Padre di Andrea, Roberto, lo ricevette con una certa imbarazzata cordialità. Andrea, mi dispiace molto per tua madre, disse evitando il contatto visivo. Qui avrai tutto ciò di cui hai bisogno, dai. Ma Andrea sapeva che non sarebbe stato così semplice. Nei giorni seguenti, la sua nuova famiglia si rivelò ostile e crudele. I fratellastri lo deridevano apertamente, prendendolo in giro per le sue origini umili e per il fatto di essere il figlio dell'amante del padre. Un giorno uno dei fratelli, Marco, organizzò uno scherzo crudele. Andrea, perché non vieni con noi dopo la scuola? Abbiamo una sorpresa per te, disse con un ghigno malevolo. Innocentemente Andrea accettò, solo per trovarsi faccia a faccia con il bullo della scuola, ingaggiato da Marco per picchiarlo. L'umiliazione e il dolore fisico che seguirono furono quasi troppo per Andrea, che cominciò a chiedersi, perché? Perché sono dovuto venire qua? Mamma, mi manchi. Tornato a casa con lividi e ferite, sperava in una parola di conforto, ma trovò solo l'indifferenza di Claudia e uno sguardo di disapprovazione da parte del padre. Devi imparare a difenderti, da solo, fu tutto ciò che Roberto disse, prima di voltargli le spalle. Quella notte, nella sua nuova camera, Andrea si addormentò con le lacrime e gli occhi, rimpiangendo i giorni felici trascorsi con sua madre, quando, nonostante la povertà, si sentiva amato e protetto. Mamma, mi merito davvero tutto questo. Andrea si svegliava spesso al suono della pioggia che batteva contro le finestre della piccola casa in cui viveva con sua madre, Marta. A differenza della fredda maestosità della viglia del padre, la loro casa era umile, ma piena di calore e amore. Marta lavorava come commessa in un negozio di alimentari e, nonostante gli orari estenuanti, trovava sempre il tempo di ascoltare le giornate di Andrea, con un grande sorriso in volto. Lo aiutava con i compiti e gli insegnava il valore del lavoro e dell'onestà. Ricorda Andrea, la nostra situazione non ci definisce. Siamo ciò che scegliamo di essere, gli diceva spesso Marta, mentre preparavano la cena insieme nella piccola cucina. Per contribuire, Andrea iniziò a fare piccoli lavoretti dopo scuola. Portava spesso i cani dei vicini, aiutava nel negozio di alimentari dove lavorava sua madre e nei fini settimana distribuiva volantini. Ogni centesimo che guadagnava andava a sostenere la modesta economia familiare, ma non si lamentava mai. La povertà non era un peso per Andrea, era una realtà che affrontava con determinazione, sapendo che ogni piccolo sforzo era un atto d'amore verso sua madre. Sei il mio orgoglio, Andrea, le diceva Marta con uno sguardo che trasmetteva tutto l'amore del mondo. Tuttavia, nonostante la loro felicità, la salute di Marta cominciò a deteriorarsi. Le lunghe ore di lavoro e lo stress di una vita distenti presero il loro tributo una sera. Marta si accasciò in casa, incapace di alzarsi. Sveni non aprì più gli occhi. Andrea nel panico chiamò i soccorsi, ma era troppo tardi. La malattia aveva corroso silenziosamente la salute di Marta, lasciandola in difesa. Nei suoi ultimi giorni Marta fece promettere ad Andrea di cercare suo padre, di trovare in lui la sicurezza e la protezione che lei non poteva più garantirli. Non lasciare che l'orgoglio ti ostacoli, Andrea. Trova tuo padre. Lui è la tua unica famiglia ora. Furono le ultime parole di Marta, prima di chiudere gli occhi per sempre. La morte di Marta fu un colpo devastante per Andrea, che si ritrovò solo al mondo, senza altro rifugio, se non la casa dell'uomo che era stato assente per tutta la vita. Dopo la morte di sua madre, Andrea si trasserisce a casa del suo distante padre, Roberto, e della sua nuova famiglia. La vita lussuosa, un tempo simbolo di aspirazioni e sogni, diventa rapidamente una prigione dorata per Andrea. Nei primi giorni tenta di adattarsi alla sua nuova vita, ma la freddezza e l'ostilità della sua matrigna, Claudia, e dei suoi fratellastri diventano subito evidenti. Claudia lo accoglie con parole taglienti, mascherate da una cortesia forzata. Ti faremo trovare un posto adatto nella nostra casa, vedrai, disse Claudia la prima volta con un sorriso finto. Dopotutto sei parte della famiglia, non è vero? Le sue parole, seppur gentili in superficie, nascondevano una punta di veleno. I fratellastri di Andrea non erano da meno. Marco il Maggiore lo prese di mira, con scherzi crudeli e commenti sprezzanti sulla sua precedente vita di povertà. Guarda un po', il principe dei bassi fondi è tra noi. Non dimenticare il tuo posto, fratellino. Schernì Marco sotto gli sguardi divertiti degli altri quel giorno. Un giorno la situazione degenerò ancora di più. Marco e i suoi complici orchestrarono un altro scherzo ancora, che culminò con Andrea caduto da un dirupo. Per fortuna non troppo alto, ma si fece male molto alla gamba. Lo spinsero per scherzo, ridendo di lui. Roberto, preso tra il dovere verso il figlio e la lealtà alla sua nuova famiglia, offrì parole di consolazione, ma abbastanza vuote. Andrea, devi essere forte, ok? Impara a difenderti e parti da zero se è necessario, ma devi crescere prima degli altri. Disse, evitando di affrontare tutti questi problemi. I giorni passarono e la vita di Andrea diventò sempre più insostenibile, isolato e maltrattato. Iniziò a rimpiangere la perdita della madre e la semplicità della vita insieme a lei. Una sera, mentre era fuori seduto in giardino, osservava le stelle. Una delle sue sorellastre, Sofia, si avvicinò timidamente. A differenza degli altri, Sofia mostrava un barlume di empatia. Mi dispiace per come ti trattano, sussurrò. Non tutti qui pensano che tu non meriti di far parte di questa famiglia. Anche il governante ti adora. Questo breve momento di gentilezza e un piccolo raggio di luce nella vita di Andrea furono qualcosa di stimolante, di sereno, tranquillo per lui. Un prememoria che, nonostante tutto, c'era ancora speranza. Ma la strada davanti a lui era lunga e piena di ostacoli e solo il tempo poteva dire se sarebbe riuscito a trovare il suo posto in questo nuovo mondo complicato. Un giorno, però, successe una cosa che colpì anche lui. Una notizia. La notizia della morte improvvisa di Roberto. Colpì tutta la famiglia come un fulmine a ciel sereno. Andrea, ancora in cerca di un proprio posto nella casa e nel cuore del padre, si ritrovava così smarrito e incredulo di fronte alla tragedia. La mattina in cui Roberto ebbe quell'incidente di auto, la casa si riempì di silenzio. Un silenzio interrotto solo dai pianti. Nei giorni successivi al funerale, Andrea si ritrovò relegato a vivere nello scantinato della villa, una decisione che Claudia giustificò con la necessità di riorganizzare gli spazi. Ora che lei era il nuovo capofamiglia, la nuova camera di Andrea era fredda, umida e priva del minimo conforto, Claudia gli assegnò inoltre una serie di mansioni domestiche, trasformandolo di fatto in un servo della famiglia. Questo è tutto ciò che meriti, ok? Sei figlio di nessuno qua, gli disse un giorno Claudia mentre lui puliva i pavimenti. Sei fortunato che ti permettiamo persino di stare qui con noi. I fratellastri di Andrea intensificarono le loro angherie, approfittando dell'assenza di un'autorità paterna che potesse proteggerlo. I loro scherzi diventarono sempre più crudeli e Andrea si ritrovò spesso a rifugiarsi nei suoi ricordi felici, con la madre, per trovare la forza di andare avanti, rannicchiato spesso nella sua stanza, completamente solo. Tuttavia, nonostante il trattamento subito, non perse le speranze. Ricordò le parole di sua madre sulla forza interiore sulla dignità e questo lo aiutò a sopportare le giornate più buie. La svolta però arrivò un giorno con la lettera del testamento di Roberto, una lettera che cambiò completamente le carte in tavola. Claudia e i suoi figli si aspettarono di ereditare l'intero patrimonio, ma rimasero scioccati quando l'avvocato di famiglia riverò che Roberto aveva lasciato tutto ad Andrea, compresa la gestione dell'azienda di famiglia. Una volta che sarà stato adeguatamente istruito per assumerne la leadership ovviamente, il silenzio che seguì dopo l'annuncio fu carico di tensione. Claudia cercò di protestare, ma l'avvocato fu irremovibile. Mi dispiace signora, queste sono state le ultime volontà di Roberto, affermò. Andrea è il suo erede legittimo. L'avvocato lesse la lettera e nella lettera ci furono scritte alcune cose non piacevoli per la famiglia. Ragazzi, avete trattato Andrea in questo modo da quando è arrivato? L'avete trattato male, lo avete deriso. In quel periodo io non ero molto presente e anche io non sono stato il migliore dei padri. Non sono stato presente per nessuno, ma ho notato come voi abbiate veramente esagerato, come un vostro lato oscuro sia venuto fuori. Come a quanto pare vi importi soltanto dei soldi, ma io non voglio che i soldi vi accechino, vi rendano persone così. Per questo motivo li lascio tutti a lui. Andrea, incredulo, sentì per la prima volta da molto tempo un barlume di speranza e giustizia. Sapeva che la strada davanti a lui sarebbe stata lunga e piena di sfide, ma era determinato a onorare la memoria di suo padre e soprattutto di sua madre, costruendo un futuro migliore per sé. Nei mesi successivi Andrea iniziò a prepararsi per il suo ruolo come amministratore delegato dell'azienda di famiglia. Con l'aiuto di mentori fidati e di alcuni dipendenti leali a suo padre, imparò rapidamente i meccanismi del business, mostrando una determinazione e un'intelligenza che sorpresero molti. La situazione in casa divenne insostenibile intanto. Claudia e i fratellastri di Andrea lo supplicavano di lasciarli vivere nella villa, ma Andrea, ricordando il dolore e l'umiliazione subiti, prese una decisione difficile ma necessaria. Ordino loro di lasciare la casa, concedendo loro solo una piccola parte dell'eredità per iniziare una nuova vita altrove. Mi dispiace, non potete trattare la gente come avete fatto con me. E poi aspettarvi pietà. Prendete, questi sono molti soldi, potete affittare un bilocale, un monolocale, quello che volete, per poi cercare lavoro, disse Andrea con fermezza. Dovete imparare a guadagnarvi la vita, proprio come ho fatto io. Il tempo passò e Andrea divenne un amministratore delegato competente e rispettato. Ci vollero molti anni, è vero, ma sotto la guida l'azienda di famiglia non solo prosperò, ma si espanse, entrando in nuovi mercati e creando opportunità di lavoro per centinaia di persone. Claudia e i fratellastri d'altra parte faticavano a mantenere il loro nuovo stile di vita modesto, vivendo in un piccolo appartamento. Si confrontavano ogni giorno con delle sfide di vita comune, lontani dal lusso a cui erano abituati. Un giorno Andrea ricevette la visita di un detective privato che aveva ingaggiato mesi prima, mosso da dubbi sulla morte improvvisa di suo padre. Il detective gli rivelò che Claudia aveva fatto fare quell'incidente a Roberto distruggendo i suoi freni, o meglio, assumendo qualcuno che distruggesse i freni dell'auto, sperando così di ereditare la sua fortuna. Andrea fu scosso dalla rivelazione, ma decise di non procedere legalmente contro Claudia. La giustizia ha fatto il soccorso, in un certo senso, riflettè. Lasciare che vivano con il peso della loro coscienza è una punizione peggiore di qualsiasi verdetto di un tribunale. Infatti Claudia e i fratellastri da parte loro furono costretti a confrontarsi con le conseguenze delle loro azioni. La vita in un piccolo appartamento, lontani dal lusso e dal prestigio a cui erano abituati, fu un duro risveglio. Ma in questo stato di necessità trovarono anche l'opportunità di riflettere sui loro errori e di crescere come persone, sebbene la loro strada verso la redenzione fosse lunga e piena di sfide. La possibilità di cambiamento comunque era ora aperta. Nel guardare indietro al suo viaggio Andrea sentiva una profonda gratitudine per le lezioni apprese. Aveva scoperto che il potere, la ricchezza e successo non avevano significato senza integrità. E mentre si affacciava sul panorama dalla finestra del suo ufficio non vedeva solo una città che si stendeva davanti a lui, ma un mondo pieno di possibilità. Un mondo che era pronto a cambiare per il meglio, un passo alla volta, guidato dalla sua visione, dal suo cuore e da sua madre che lo osservava sempre.